Buongiorno, un saluto a tutti voi dalla redazione e bentrovati al primo appuntamento con la nostra informazione del mattino, un mattino particolare, oggi 31 ottobre, giorno della memoria nella nostra regione, si commemora l'anniversario, il quindicesimo della tragedia di San Giuliano di Puglia, tante le iniziative che si svolgeranno oggi in regione, lo vedremo nel dettaglio nel corso del telegiornale delle 14. Ora però parliamo di politica e dell'improvviso dietro front di Antonio Di Pietro che prima sembrava voler sposare la causa dell'ulivo 2.0, dopodiché ha fatto marcia indietro ed è tornato con frattura con il figlio cristiano che con molta probabilità ha un accordo elettorale con Facciolla. Sentiamo. Antonio Di Pietro nei giorni scorsi un incontro con Bersani e Danilo Aleva a Roma, accordo quasi fatto possiamo dire. Non c'è nessun problema, non esiste un quasi nel vocabolo di Di Pietro. Io ho cominciato a fare politica nell'ulivo, di cui sono stato un cofondatore, resto nell'ulivo e quindi non posso che restare con Bersani a cui io ho detto e lui ha ribadito che entrambi lavoriamo per ricostruire un ulivo unitario ed io ho già detto a lui che certamente voterò MDP ma non mi limiterò a votare MDP, ne porterò anche la bandiera. Così parlò Antonio Di Pietro, era il 25 settembre e tolse ogni dubbio sulla sua collocazione politica e sulla conseguente adesione all'MDP e all'ulivo 2.0 nel Molise. A distanza di poche settimane l'ex ministro ha ribaltato la sua posizione e ha di fatto riconfermato il sostegno a Paolo Frattura pur criticandone l'operato. In realtà però in questi ultimi cinque anni Antonio Di Pietro non ha mai proferito parola sulle scelte del Governo regionale in materia di sanità, di lavoro, di infrastrutture, sui pesanti complitti di interesse che lo hanno caratterizzato né tantomeno sulle eclatanti vicende giudiziarie che hanno coinvolto direttamente il Governatore. Il presunto giravolta si è palesato durante il faccia a faccia con Roberto sottoruta organizzato dall'MDP quando il senatore gli ha offerto pubblicamente la candidatura al vertice della Regione per poter riunire, ha detto il centrosinistra, ma Di Pietro ha subito rifiutato l'offerta e con motivazioni poco convigenti ha detto non sarò mai candidato per dividere ulteriormente il centrosinistra né al Parlamento né alla Regione, anche perché, ha spiegato l'EXPM, quando è uscito il mio nome non ho visto un consenso diffuso, il centrosinistra diviso perderà le elezioni politiche e quelle regionali ha aggiunto ed io non ho intenzione di andare alla ricerca di un posticino da estrema unzione. A chi gli ha fatto notare che l'unica opposizione alla sua candidatura era arrivata da Paolo Frattura, Di Pietro ha sorriso ed è rimasto in silenzio. Secondo molti osservatori si è trattato di un vero e proprio dietrofront, quello di Antonio Di Pietro, forse collegabile al figlio cristiano, che secondo i beni informati nei giorni scorsi avrebbe concluso un accordo elettorale con Vittorino Facciolla. Davvero imbarazzante, infine, la risposta di Antonio Di Pietro alla domanda sulle diverse vicende giudiziarie che hanno coinvolto il governatore, dalla sentenza di Bari alla Biocom, dalla Villa al mare ai tanti conflitti di interessi. Frattura venne da me prima di presentare la denuncia a Bari, ha detto Di Pietro, ed io lo sconsigliai dicendogli pensaci bene, oggi si trova indagato per calunnia ma un avviso di garanzia non è una condanna e anche a voi dico pensateci bene perché Frattura verrà assolto, ha concluso Di Pietro. Roberto Ruta invece ha bacchettato Paolo Frattura su quella denuncia. Dunque la distanza tra Ulivo 2.0 e Antonio Di Pietro è diventata davvero incolmabile e tutto lascia prevedere che l'XPM ritornerà nelle braccia di Frattura. Il faccia a faccia tra Di Pietro e Ruta è servito però a fare chiarezza sulle reali intenzioni dell'XPM fino ad oggi eccessivamente ondivache mascherate dalla ricerca affannosa di una unità del centro-sinistra che al momento appare impossibile. La posizione della CEI sull'accoglienza e sull'immigrazione viene ribadita anche dall'Arcivescovo di Campobasso Giancarlo Bregantini che torna a parlare dello Ius Soli e lo ha fatto a margine di un incontro a Reggio Calabria. Un diritto non un favore ha detto il servizio di Anna Maria di Matteo. L'Arcivescovo della diocesi di Campobasso Boiano Giancarlo Bregantini prende posizione sullo Ius Soli che è un tema di strettissima attualità. Sarebbe ora è un diritto non un favore ha dichiarato riferendosi all'accelerazione imposta dal governo per il varo del provvedimento. L'intenzione è quella di approvarlo entro la fine della legislatura. È doveroso che venga fatto immediatamente, ha aggiunto Bregantini. Se ne parlava già sette anni fa durante le settimane sociali a Reggio Calabria. La paura eventuale deve sparire. Ha proseguito l'alto prelato. Se un cittadino è riconosciuto è comunque collaborativo, partecipativo e in grado di dare il meglio di sé. Dobbiamo quindi aprire le situazioni alla realtà già istituzionali. I figli dei migrati nati in Italia hanno il diritto alla cittadinanza. Non è un favore che viene loro concesso. Ha puntualizzato Bregantini che si è soffermato anche sul viaggio del Papa in Cina. Il suo viaggio sarebbe la conferma di un mondo che cambia, ha spiegato. È un modo per far sì che la Cina torni ad essere protagonista e non solo più realtà di commercio che ci fa concorrenza, ha aggiunto, ma protagonista di cultura, di religiosità e di dimensione spirituale. È questo il grande sogno che l'Occidente deve avere, realizzare i ponti creati da Marco Polo, ha concluso Bregantini. Come dicevamo oggi ricorre il giorno della memoria di San Giuliano del Puglia. In quell'occasione noi di Telemolise raccontammo la tragedia in una lunga diretta di oltre 40 ore. Per rivivere quei drammatici momenti oggi andrà in onda lo speciale realizzato dal direttore Emanuela Petescia e da Angelo Pompei in occasione del decimo anniversario del terremoto. Lo speciale andrà in onda oggi alle 15 circa e domani alle 11. Intanto, dicevamo, le iniziative previste ve le racconteremo nel corso del telegiornale. Ora spazio ai giornali online e a quelli che troveremo oggi in edicola. Giornale del Molise, qui non c'è futuro, esodo dal Molise, 27 mila giovani andati via negli ultimi dieci anni. L'emigrazione torna a essere un fenomeno attuale, vanno via soprattutto diplomati e laureati. Poi il giorno della memoria a San Giuliano di Puglia, le iniziative in paese a 15 anni dal sisma. L'arcivescovo Bregantini sullo Iussoli è un diritto, non un favore. E poi lutto a Macchia Valfortore per la scomparsa del sindaco Tonino Carozza. I funerali mercoledì. Ancora sull'accusa di stupro, la vicenda di Termoli si difende davanti al giudice. Lei era consenziente e chiesta la libertà. Futuro Molise apre con il tessile a Isernia. Il nome del nuovo miracolo è moda impresa grazie ai lavoratori che investono i loro risparmi. Di spalla accreditamento delle strutture sanitarie. Danilo Leva presenta un'interrogazione ai ministri della salute e dell'economia. E poi la piana di Venafro ridotta a discarica. Il lavatoio cittadino è diventato una pattumiera. Tante proteste ma nessuno interviene. Anche qui ricordato il sindaco di Macchia Valfortore Carozza, il ricordo di frattura, Tonino, il sindaco dal sorriso buono. Passiamo ai quotidiani locali che aprono tutti e due con il terremoto di San Giuliano. Il Molise si ferma per commemorare le vittime del sisma di San Giuliano 15 anni fa. Il crollo della Iovine in cui persero la vita 27 alunni e la maestra. Il presidente del Consiglio ha chiesto a presidi e amministratori di sospendere l'attività scolastica le 11.32 la data e l'orario della prima scossa. Poi il patto per la sicurezza. Entro il 30 aprile 500 telecamere in 11 comuni nel cassettone di primo piano e la politica. Di Brino a Di Girolamo pensi al suo collegio. Qui sappiamo come fare. Polemiche in Forza Italia. Coordinatore di Direzione Italia Antonio Di Brino replica all'ex commissaria di Forza Italia. Annunzia De Girolamo che ha chiesto a Iorio di fare un passo di lato. Ancora nella prima pagina di primo piano il richiamo sulle scuole sicure del prefetto alle mani legate. Posso solo sensibilizzare il ricordo del sindaco Tonino Carrozza. Macchiavo al Fortore ma anche del nostro collega Mario Lepore scomparso a Venafro dove oggi si svolgeranno i funerali alle 15. Per quanto riguarda lo sport stadio il campo basso attacca l'amministrazione. La società Rosso Blu disinteresse sconcertante e domani in campo Di Meo avanti con il 4-4-1-1 per la gara da ex con il San Marino. Lisernia pronta a sfidare il boiano in eccellenza, boiano della vecchia conoscenza Gioffre. Vediamo la prima pagina del quotidiano. Il Molise si ferma alle 11.32. Del resto è una legge, quella del giorno della memoria. Istituito il 31 ottobre un'intera regione ricorderà la tragedia di San Giuliano a 15 anni di distanza. Seduta monotematica in consiglio regionale ci sarà anche Pirozzi, sindaco di Amatrice, poi le cerimonie in paese. Nel cassettone identica in paginazione, come abbiamo visto, patto per la sicurezza con in arrivo le 503 telecamere, lo ius soli di Bregantini necessario è un diritto, non un favore. Ricordata anche l'intervento di San Giuliano con la gru che sollevava le macerie dalla Iovine per cercare di salvare i bambini della scuola. Anche qui i richiami con la scomparsa del sindaco di Machiaval Fortore e l'addio a Mario Lepore, giornalista buono. E ora passiamo ai quotidiani nazionali. Tiene banco sulle prime pagine soprattutto il Russiagate, il Corriere della Sera apre il giornale con questa notizia, i primi arresti coinvolto l'ex capo della campagna di Trump che si è consegnato all'FBI, cambio alla Fed in arrivo Powell, Casa Bianca, Manaforte, uomo d'affari accusati di cospirazione, il presidente fatti vecchi di anni. Sempre la politica estera ma sulla questione dell'indipendenza della Catalogna arriva un'altra notizia forte, incriminato Puigdemont, lui vola in Belgio, chiederà asilo incriminato di ribellione, sedizione e malversazione. Nella foto centrale c'è il coming out del attore Kevin Spacey che ha rivelato di essere omosessuale, il premio Oscar chiamato in causa da un attore, mi scuso per le molestie, poi Spacey rivela sono gay, è stata raccontata questa storia di un giovane attore che sarebbe stato molestato, lui ha detto di non ricordare che forse era ubriaco, comunque ha chiesto pubblicamente scusa rivelando poi di avere il diritto ad essere omosessuale. La Repubblica apre a tutta pagina, su il Russiagate si avvicina a Trump, arrestati Manafort capo della campagna elettorale Gates per il complotto contro gli Stati Uniti e Fondineri, il Presidente le accuse non mi riguardano, un altro membro dello staff ammette, ho mentito all'FBI, secondo Federico Rampini corrispondente da New York per Repubblica, la Casa Bianca rischia e studia la rappresaglia e di spalla invece sono gay, ma c'è l'ombra delle molestie e la vicenda di Kevin Spacey. Nel taglio centrale invece ancora la politica estera, come abbiamo visto poco fa, ma con un taglio diverso, la foto su Pugment che viene accusato di una serie di reati che prevede prevedono pene pesantissime in Spagna, i capi catalani e la fugga a Bruxelles vogliono chiedere asilo politico. Riaperta l'inchiesta su Firenze, sugli attentati che colpirono nel 1993, Firenze, Roma e Milano, mafia e stragi, riaperta l'inchiesta, Berlusconi e Dell'Utri di nuovo indagati. Diciamo la Repubblica, vediamo il messaggero che apre sempre con la politica estera, però stavolta nel taglio alto e nel titolo principale c'è la Catalogna, la fuga dei secessionisti, Puigdemont e cinque suoi ministri a sorpresa a Bruxelles vogliono asilo politico in Belgio. La Procura di Madrid ha chiesto l'incriminazione per ribellione e sedizione, ma non l'arresto. Sempre per la politica estera il Russiagate fa tremare Trump, arrestato l'ex guru della campagna, Manafort si consegna all'FBI accuse di cospirazione contro gli Stati Uniti, eccolo qui insieme a Trump e alla figlia del Presidente degli Stati Uniti. Vediamo poi nel taglio centrale, contro ordine, una notizia che ha fatto sobbalzare tantissimi genitori in Italia, i ragazzi delle medie potranno uscire senza genitori, un emendamento abolirà l'obbligo per i familiari di accompagnare gli studenti in uscita dalla scuola, una sentenza della Cassazione ha mandato in tilt il sistema scolastico, un emendamento che arriva oggi in Senato, cancellerà la norma che impone ai genitori di andare a prendere a scuola i propri figli under 14, il testo dell'emendamento è un solo articolo con due commi per rendere legge quello che oggi pur essendo illegale è stata la prassi di molte famiglie italiane, i ragazzi delle scuole medie infatti uscivano da soli. Lasciamo il messaggero per vedere il fatto quotidiano che invece sceglie un'altra strada, il ritorno degli zombie, l'effetto della nuova legge elettorale secondo il fatto di Travaglio e Padellaro e da Mastella a Demita, da Fitto a Romano, da Cesa a Tosi, tutti decisivi con uno sbarramento al 3%, la possibilità di incidere anche con l'1% e le coalizioni da ricercare dopo le urne per fare il governo rifioniscono i micropartiti nei collegi, signori del voto locale potranno di nuovo dare le carte nella foto praticamente il ritorno alla prima Repubblica. Ancora politica interna, manovra in mancette e marchette, partiva da 70 articoli, ora è a 120, voto in vista, legislatura agli sgoccioli, il mille proroghe rischia di saltare, il testo depositato in Senato è lievitato ed è pronto ad accogliere gli emendamenti elettorali, segnale al pubblico impiego con la conferma degli 80 Euro, stoppa lo scatto dell'IVA, prorogato il bonus dei giovani, tanto si taglia la sanità. Per Libero invece il taglio è sempre sulla politica interna ma è completamente diverso, la Previdenza è un rottame, Boeri il Presidente dell'Inps non riscuote i contributi, il governo gli dà 60 miliardi, il Presidente dell'Inps ne combina di tutti i colori e succhia soldi allo Stato, nessuno lo caccia, previsti aumenti sconsiderati dell'IVA, Banca Italia sputacchiata dai risparmiatori, quattrini al sud, pernacchie al nord, le province non esistono più ma costano come quando erano in vita, paese di Pulcinella, titolo sommario praticamente un pastone politico di Vittorio Feltri che spara a bordate a destra e a Manca. E poi la foto anche qui di Kevin Spacey, sono gay ma molesto ragazzini in modo democratico, non è questa la dichiarazione di Kevin Spacey ma chiaramente un commento del quotidiano e a proposito di commenti ve ne segnalo uno perché è qui davanti, malati di sesso o malati di mente è il commento di Renato Farina nei confronti di uno che si è dichiarato omosessuale. Gli italiani temono più visco degli immigrati, due su tre non investono perché non si fidano della vigilanza. Lasciamo libero e vediamo il sole 24 ore rapidamente con una apertura come sempre economica, manovra ecco tutte le novità, casa investimenti bonus 80 euro, le misure per imprese e famiglie, nel dettaglio tutta la mappa delle novità sul decreto sul disegno di legge di bilancio, scontro contributivo del 50% per i primi tre anni di assunzione ai giovani. State bonus se potete è il gioco di parole del manifesto con Gentiloni seduto accanto a Padoan per illustrare la manovra, piovono bonus nella manovra, 4 miliardi in forma di sconti e agevolazioni a imprese e banche, briciole per le famiglie numerose, un replay Renziano che non piace alle opposizioni a Palazzo Madama, i numeri ballano e il Partito Democratico precetta i senatori Padoan a Bruxelles, conti in ordine, questa è la prima pagina del manifesto, rapidamente vi faccio vedere quella del venire, il quotidiano dei Vescovi perché titola sulla Spagna ma con un taglio completamente diverso, crimini nazionali, ribellione, Puigdemont accusato va in Belgio, cospirazione, arrestato il consigliere di Trump, la scura giudiziaria decapita i vertici del governo catalano negli Stati Uniti, responsabile della campagna presidenziale, si costituisce e poi il Papa si rischia il suicidio, l'intervento di Francesco sul crescente tensione internazionale per quanto riguarda il rischio nucleare avanti con il disarmo ha detto Francesco. Prima di chiudere vediamo come sempre le notizie dello sport sulla Gazzetta, Inter da record, i nerazzurri passano a Verona 2-1 faticando troppo, torna seconda mai 29 punti dopo 11 giornate e praticamente la cura Spalletti segna Borca Valero, poi il pari gialloblu arriva con un rigore dato grazie alla varra e realizzato da Pazzini, gol decisivo di Perisic con una cannonata, Spalletti e le scommesse vincenti è il commento. Sull'altra sponda milanese le difficoltà del Milan, Fassone a Montella, ora pensi ai risultati, l'amministratore delegato sprona il tecnico, più che il gioco adesso serve concretezza, l'allenatore in bilico contro Aikappa e Sassuolo, stavolta rischia la panchina Juve-Roma è il momento, a Lisbona serve Dybala al top, carica Raja per battere Conte, parliamo di Champions League, stasera Allegri vuole guadagnare gli ottavi di Francesco Ippotecarli e domani a Napoli c'è Sarri contro Guardiola, a Napoli gioca il Manchester City in una partita che si preannuncia calda e dire poco. E con l'appuntamento di stasera per la Champions noi invece ci salutiamo e vi diamo un altro appuntamento, quello al telegiornale delle 14, vi aspettiamo naturalmente, grazie a Gianluca Praetano che è stato con noi oggi in regia, grazie a voi che ci avete seguito, per ora è tutto, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.